2, 1, via! Claudio, sei lentissimo, vai! Vai Dani, sei il primo! Vai Vito, sei l'ultimo, Vito! Sei l'ultimo, Vito! Vai, vai Ale, vai! Grande, Sergio! Vai Walter! Vai! Pronto Claudio, vai! Vai, più veloci 25, più veloci 25! Sensazioni a caldo Walter? Le gambe sono dure. Le gambe sono dure, ha dentro Walter. Vai Claudio! Vai Claudio! Vai Claudio! Vai Grappi! Claudio, hai Grappi! Grappi! Vai Vito! Vai Sergio, non ti fermare, Sergio! Non ti fermare! Non ti fermare! Vai Francesco! Vai Spinelli! Vai Sergio! Primo i Sergio, secondo i Francesco, terzo, oh occhio, occhio la testata quello dà! Terzo Rocco, la sfida è tra quarto e quinto! Vai, vai Ale, vai Ale! Walter quarto, Alessandro quinto! Come è andata? Come è andata? Oh, sono scendita! Tura, dura! Buona! Tura, mamma mia! Ok! Non sono i miei allievi! Ahahahah! Grazie a te!